San Severo, 19 gennaio 1986, incontro alla Chiesa della Libera, l'Eucaristia anima della parrocchia, celebriamo oggi la seconda domenica del tempo ordinario tra l'anno, Gesù, il Figlio di Dio, assumendo dal grembo della Vergine la nostra natura umana, la unita in sé in modo indissolubile, Egli è lo Sposo e noi partecipiamo con gioia, con amore, con intima convinta preghiera. Ogni messa che si celebra, soprattutto questa nel giorno del Signore, ricompone e ripropone il Cenacolo di Cana di Galilea, dove non ci viene offerto un vino qualunque ma il corpo e il sangue di Gesù. La Madonna, come a Cana, ci aiuti a vivere intensamente questo nostro incontro sacramentale con Lui. Siamo quindi in sintonia con il tema della meditazione di oggi, l'Eucaristia è l'anima della parrocchia. Il banchetto di Cana di Galilei con commesali Gesù, Maria e gli Apostoli è l'altare eucaristico attorno al quale si raduna la comunità parrocchiale per celebrare i divini misteri nel giorno del Signore. Vi suggerisco due riflessioni, la prima di ordine teologico, la comunità parrocchiale anzitutto una comunità eucaristica. La liturgia del Corpus Domini afferma che il sacrificio pasquale di Cristo morto e risorto è presente nell'Eucaristia come segno di unità, vincolo di carità, sacramento di amore e convitto pasquale nel quale si riceve il Cristo totale. Il documento CEI Eucaristia Comunione e Comunità del 1983 al numero 61 riporta, un'autentica comunità ecclesiale che voglia vivere la comunione, pone al centro l'Eucaristia e da essa assume forma, criterio e stile di vita. L'Eucaristia è la vita ed è la scuola dei discepoli di Cristo. Celebrando il mistero eucaristico nel giorno del Signore, la comunità parrocchiale vive non solo la sua storia ma anche il suo futuro perché mentre fa memoria della morte, risurrezione e ascensione del Signore, annuncia il mistero della sua presenza e del suo ritorno nel compimento della storia umana. Nell'Eucaristia inoltre rinsalda i vincoli di comunione con Dio e i fratelli e diventa autentica comunità ecclesiale. Senza Eucaristia non c'è Chiesa, non c'è comunità né fraternità tra i viventi. La seconda, l'impegno rinnovato dei la nostra vita cristiana L'Eucaristia è un dono esigente, non c'è Eucaristia senza Chiesa e Chiesa senza Eucaristia. Si pone l'interrogativo sulla nostra fede, molti cristiani vivono senza Eucaristia, molti fanno l'Eucaristia ma non fanno Chiesa, altri non vivono in coerenza di vita. Ogni Eucaristia è un rinnovato invito del Signore a diventare Suoi discepoli, a testimoniare la Sua reale presenza tra noi ed accettare lo scandalo della croce. Frutti di questo impegno sono la fiducia, la libertà di spirito, l'impegno sereno a capire la realtà, il dialogo, la serietà nel lavoro, la gratuità, il perdono, il servizio ai fratelli più bisognosi, la verità verso se stessi, il rispetto e la comunione reciproca. Questo modo di interpretare l'esistenza e viverla ogni giorno inserisce l'Eucaristia al centro della vita cristiana per trasformarla in permanente rendimento di grazie. A Cafarnao, all'indomani della moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù invitava le genti sfamate a cercare un altro pane, che dura per la vita eterna e si proponeva quale pane di vita. La gente del tempo trovava duro quel linguaggio e cercava alibi per le proprie decisioni. È la gente di sempre, siamo noi, cui Gesù chiede, ve ne volete andare anche voi, Monsignor, Giuseppe Stoico.